Edward Snowden ha dichiarato di aver preso in considerazione la possibilità di essere denunciato dagli USA se avesse rivelato i dettagli dei programmi segreti della sorveglianza. L'ex dipendente della CIA, che ha lavorato come contractor presso l'Agenzia di Sicurezza Nazionale Americana, ha parlato a giugno. Stanno per dire che ho aiutato i nostri nemici rendendoli consapevoli di questi sistemi. Ma quel ragionamento può essere fatto contro chiunque riveli informazioni riguardanti i sistemi di sorveglianza di massa. Perché, fondamentalmente, questi sistemi, oltre che ai nostri nemici, si applicano anche a noi stessi. Le rivelazioni di Snowden hanno acceso in tutto il mondo dibattiti e proteste contro la sorveglianza di vasta portata dell'Agenzia di Sicurezza Nazionale Americana. Sono stato a guardare, aspettando e cercando di fare il mio lavoro nel modo più sicuro possibile, ovvero attendere e consentire alle altre persone di aspettare la nostra leadership e le nostre cifre ufficiali, permettendo così al governo di correggere i propri eccessi, nel caso fosse andato troppo oltre. Ma da quel che ho visto e sentito, questo non sta accadendo. Infatti, stiamo conciliando gli eccessi dei governi precedenti, rendendoli peggiori e più invasivi, mentre nessuno sta facendo veramente qualcosa per fermare tutto ciò. A seguito delle rivelazioni di Snowden, il Brasile ora chiede spiegazioni sulla notizia secondo la quale l'Agenzia di Sicurezza Nazionale Americana avrebbe monitorato le chiamate telefoniche e le email dei cittadini brasiliani per un decennio. Il rapporto del quotidiano Globo ha citato i documenti ottenuti da Snowden, al quale è stato offerto asilo dalla Bolivia, Venezuela e Nicaragua.